Amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati in questo fine settembre che alterna più sgrulloni di pioggia a un caldo sfisiante Voglio farvi vedere carissimi, voglio farvi vedere due partite bullet che ho giocato in questi giorni contro un avversario, uno stesso avversario Ora, normalmente non si dovrebbe analizzare il blitz, figuratevi analizzare il bullet, no? Però ve lo faccio vedere perché ci sono dei risvolti, come posso dire, dei risvolti che vanno al di là del puro gioco degli scacchi estremamente sinistri Allora, qua sono nell'archivio di chess.com, il mio avversario in queste due occasioni è stato questo signor Bucoro Allora, andiamo a vedere, ne giocate due contro Bucoro, ma separatamente, senza l'intenzione di giocarne due Vediamo la prima, questa qua Bullet, vi dicevo, sempre a 2 più 1 Tra il resto, signori, io ultimamente gioco bene solo a bullet, vai a capire Non ho testa, non ho proprio la continuità di concentrazione per giocare a tempo lungo, non lo so Perciò gioco bullet e tra l'altro sono quasi a 1400, ho dato un centinaio di punti Ecco, io volevo vedere l'analisi della partita, non volevo giocare una partita Il sito di chess.com a volte scazza un po', come dicono i giovani d'oggi Vittoria, vittoria, vabbè, ok, io clicco qui Server error Ecco Va bene Va bene, niente, c'è un problema tecnico Ok, nel frattempo il server si è riavuto dal momento di svenimento Ecco, io c'ho i neri qui, c'ho, non me parlo male, io ho i neri qui La partita è andata come segue Dunque, il Bucoro gioca delle Cayman, tra l'altro, delle isole Cayman Quindi questo qua sicuramente gestisce conti offshore di mafiosi e persone poco raccomandabili Difesa francese abbiamo Variante di spinta Tutta teoria, non l'abbiamo già vista diverse volte È una delle opzioni che ha il bianco quando il nero imposta la francese Di spingere il pedone E in E5 Così da fissare il centro e poi sostenere la catena con C3 Così, così Io sviluppo il cavallo, lui sviluppa il cavallo Tutto ruota intorno al pedone in D4 Attacco, difende, attacco, difende, attacco, difende Qui abbiamo la mia presa Si può prendere adesso, si può prendere dopo, è abbastanza facoltativo Lui riprende, io esco con la donna per fare ulteriore pressione sul pedone Lui me la dà come in precisione, preferiva lo sviluppo del cavallo Anzi, guardate, togliamo pure le linee perché intanto In una bullet è già buona non lasciare i pezzi in presa Comunque, io sviluppo la donna per attaccare il pedone Opla, ok Lui sviluppa l'alfiere Qui c'è una trappola nella francese Sembra che lui, sviluppando l'alfiere così Abbia commesso un errore, no? Perché l'alfiere qua interferisce con la difesa della donna sul pedone in D4 Ma guardate cosa succede se il nero mangia Presa, presa, presa E qui il nero dice, oh, ho guadagnato un pedone C'è questo problema, scacco E si perde la donna Quindi attenzione a prendere il pedone in questi tipi di situazioni nella francese Io piuttosto appunto che prendere ho sviluppato l'alfiere campo chiaro Il solito alfiere in belle della francese in D7 Lui arrocca e adesso però posso prendere, vedete? Perché adesso lui non ha più scacchi Come prima Prima c'era lo scacco con l'alfiere in B5 Adesso non c'è più Quindi io cosa faccio? Prendo e guadagno un pedone Presa, presa, presa E lui sviluppa un pezzo perché In effetti è rimasto con le famose pive nel sacco Adesso io torno indietro con la donna Ho fatto donna B6 Si poteva prendere qua Però Avevo un po' paura Perché poi Vediamo cosa diceva Cosa dice qua il motore Donna per E5 Si va bene Giocabile Però Poi signori Anche giocando bullet Ci sta anche lucrare un po' sul tempo Quindi io Muovo anche veloce Questa non può essere una mossa sbagliata Donna B6 Ho il mio pedone in più Che me ne frega Lui sviluppa la donna In una posizione aggressiva in F3 Qui vedete il tempo E siamo ancora a tempo pieno Tutti e due Cavallo E7 Sviluppo Con l'idea di fare così E poi sviluppare l'alfiere B3 B3 Si avrei potuto Ah no Non avrei potuto prendere Fa B3 Per liberare l'alfiere Dalla difesa del pedone in B2 O magari per fare così Però non è un piano tanto chiaro Qui ci stava meglio magari Non so Mettere la torre su colonna aperta Vediamo cosa dava Per il bianco Come mossa migliore Così No Avevo capito Ma devi darmi le mosse Ah sì scusate Oh sono un po' rimba Scusate scusate Era nero ma perché la valutazione è nera Donna G3 Dava come migliore O H4 Eh esatto Cominciare un attacco di qua Buona Ok B3 Io sviluppo il cavallo Come lo intendevo fare Lui cambia Io riprendo e mi apro la colonna su Re Su l'arrocco Ecco Su l'arrocco nemico Alfiere B2 Sì sviluppa l'alfiere Col problema che questo alfiere Si sviluppa nel modo da sbattere la testa Violentissimamente contro un muro Però Non si può mai sapere Probabilmente stava meglio Tipo qua Guadagnava un tempo sulla donna Dico io eh Alfiere 7 Torre AC1 Torre su colonna aperta Questa è un'ottima mossa Torre C8 Contrasto immediato H3 Un po' mossa Per temporeggiare Probabilmente Vedete che io comincio già a essere in vantaggio di un po' di tempo Arrocco corto Qui ho detto Arrocco perché Nonostante questa colonna aperta Sia in genere una cosa positiva Avere la colonna aperta con la torre Però lui ha fatto questa Che impedisce lo schianto in H2 E poi Tutto considerato Anche col fatto che ho un pedone in più Preferivo mettere in comunicazione le torre Visto che c'è questa tensione sulla colonna aperta Quindi ho detto Non devi dare brutti scherzi Metto in comunicazione le torre a Arrocco E allora lui gioca a H4 Per venire ad attaccarmi l'Arrocco Io prendo Perché il pedone è in presa Quindi non mi attacca più l'Arrocco Probabilmente non l'aveva visto Non lo so Donna H3 Magari era anche Poteva O è un blunder Che non l'ha vista Magari è anche un sacrificio Per guadagnare un tempo E poi fare manovre del tipo Portare una torre qua Così e così Anche Può darsi anche che avesse questa idea qua Lui mi attacca l'alfiere Io lo sposto qui E questa è stata una mossa importante Secondo me Ho detto Lo rimetto qua Ma se lo rimetto indietro In E7 La colonna resta proprio Nuda e cruda Se lo metto qua In G5 Posso poi girarlo in H6 E tappare la colonna Quindi alfiere G5 Torre CD1 Eccolo che tira fuori le torri Io sviluppo l'alfiere Perché qua non faceva un tubo Quindi intanto guadagno un tempo Su questa torre Lui prende Mi sta benissimo Cambiamo G3 Con l'idea probabilmente di fare Re G2 Torre H1 Quindi qua cominciavo a sudare Perché si preparava un attacco Corposo Sul mio arrocco Entro Contrattacco Contrattacco Visto che lui Tra l'altro Spostando Prima se vedete Quando ha fatto Torre C2 Scusate Torre CD1 Che stupido Torre CD1 Con l'idea di alzare la torre Questa mossa Secondo me non è male Però lascia Mi lascia il controllo Della colonna E quindi Poco più avanti Io ne approfitto Occupando La seconda attraversa Con la mia torre Lui sposta l'alfiere Che era sotto attacco Raddoppio Quindi io controllo In modo veramente Dispotico La colonna C Regi 2 Alzata di re Per fare questo Torre per A2 Qui non sapevo bene Cosa fare Ho preso un pedoncino Anche magari Con l'idea Di fare posto La seconda torre Lui raddoppia E io scivolo indietro Con l'alfiere Per chiudere la colonna Spinge Per venire a scalzarmi L'alfiere Spingo anch'io Per tappare tutto Muove l'alfiere In E3 Per intensificare La pressione qua Qui si sudava Io stavo sudando Torre CC2 Raddoppio Sulla Sulla traversa Torre DF1 Lui si caga Un po' in mano Scusate L'espressione Specialmente Riferita a un distinto Abitante delle isole Cayman Difende il pedone Donna B4 Eh Questa è una mossa Sottile Questa mossa Sono proprio contento Di averla trovata Donna B4 Perché ho detto Sì Qui c'è un pedone In presa Ok Ma a prendere un pedone Adesso non mi serve Mi serve Fare entrare La donna In attacco Quindi ho detto Faccio Donna B4 Con l'idea di BAM Piazzarla in E4 Con un bello scacco Quindi faccio Donna B4 Alfiere per G5 Lui minaccia Di sfondare Tutto adesso Perché io non posso Prendere Se no mi becco Un bel matto Se prende lui La prospettiva È grigia Ma io ho La potente Mossa intermedia Donna E4 Scacco E adesso lo mando In confusione Finché cappella Re G3 Torre C3 Scacco F3 Per coprire Donna per E5 Scacco Noi non so più Cosa fare Perché poi Tra l'altro Signore Io ho giocato Anche un po' Di psicologia È difficilissimo Difendere con 19 secondi Alfiere per F4 Donna per F4 Scacco Re H4 Alfiere G5 Scacco Re H5 G6 Matto Prima vittoria Contro il caimanese Adesso andiamo a vedere La seconda vittoria Contro il caimanese Eccoci qua Eccoci qua Di nuovo con il caimano caimanese Ho messo in pausa Per evitare di stare Ancora 20 minuti A aspettare Che il server Si riavesse Allora Seconda partita Contro Bucoro Io sono al cesso Con una sigaretta Che gioco una bullet Mi capitano i pezzi bianchi Contro questo tale Io non sapevo Che l'avevo già battuto Lui probabilmente Si ricordava Poi vi faccio vedere Perché qua Sono contento Perché ho giocato Una bellissima linea Una bellissima linea Adesso ve la faccio vedere D4 Cavallo F6 Alfiere Togliamo pure il feedback Non ci serve Alfiere F4 Io imposto Londra E lui risponde Mettendo un setup indiano G6 Così no? Solito difesa est indiana In questo tipo di posizione Ho visto Mi pare in un video Del bel sito Remote Chess Academy Andatelo a vedere Perché ci sono un sacco di idee Ho visto un approccio Veramente Veramente tagliente Interessante Contro La difesa indiana Quando giocate in Londra Vi faccio vedere Perché è clamorosa Sta roba qua E3 Io faccio finta Di impostare Il sistema Proprio bovinamente Come un bovino Come il Pio Bove di Carducci Faccio finta di Impostare il setup Del Londra No? La piramide Balle varie Lui fianchetta E adesso Invece di fare C3 Che è la solita mossa Del Londra Faccio cavallo C3 Così si prepara Il setup Per aggredire Gli impianti indiani Quando giocate Col sistema di Londra Lui ha rocca corto Io sono andato In brodo di giuggiole H4 D6 Lui segue Anche lui Un po' bovinamente Il piano Qua doveva fare H5 Praticamente Per forza Vediamo Se il motore Se il motore Ci dà ragione E dà ragione Al signore Di Remote Chess Academy Vedete H5 O al massimo C5 O anche D5 Ma D6 È una Porcheria O come dice L'amico Del canale Scacchi e giochi Strategici È una Porcheria Anzi Mi approfitto Per salutarlo E ringraziarlo Perché Perché fa Dei video ottimi E perché Mi ha anche Fatto pubblicità Quindi io Volentierissimo Ricambio Seguitelo Il canale Scacchi e giochi Strategici Perché ci sono Un sacco Di cose Prelibate Allora D6 Dicevo Lui ha giocato D6 E rimane Nell'idea Della difesa indiana Ma qua c'è Una sequenza Proprio Da teoria Questa è teoria H5 Cavallo Per H5 E guardate Adesso Cosa succede Guardate Adesso Cosa si deve Giocare Qua Torre Per H5 E ce la dà Come mossa Geniale È teoria Questa roba qua È un sacrificio Di qualità Veramente 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 Che ripaga Guardate Come va La partita Lui prende Vengo su Con la donna Riprendo Qua c'è Una pressione Pazzesca Lui fa E5 Prende spazio Al centro Vuol guadagnare Un tempo Sull'alfiere E magari rompermi La struttura La struttura Pedonale Ma qui Quando siete In queste posizioni Bisogna attaccare Come dei disgraziati Alfiere D3 Minaccio matto Vedete F5 Blocca 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 la diagonale Dell'alfiere Allora io rispondo Con alfiere G5 Attacco la donna Donna E8 Non voglio Cambiare le donne Il computer dice Che devo cambiare le donne Quando l'avevo L'avevo analizzata Un attimo Per conto mio Donna per E8 Ed ha comunque Vantaggio bianco Nonostante la qualità In meno Il computer dice Che bisogna cambiare Ma Signore È una bullet Vogliamo cambiare Dopo un sacrificio Di qualità No Donna H2 Alfiere F6 Per cambiare Quella alfiere Non lo cambio Alfiere H6 Attacco la torre Alfiere G7 Adesso lo cambio Non lo cambio No Arrocco lungo Tira sulla donna Attacca due volte L'alfiere così Presa Presa E qui Ho preso una decisione Secondo me giusta Perché qua non potevo sviluppare Se no mi beccavo la forchetta Ho detto Rompiamo al centro Qua Con questa idea qua Scacco Quindi ho fatto D per E5 D per E5 E adesso ho sviluppato Il cavallo G In E2 Probabilmente non è La migliore Delle cose possibili Parliamoci chiaro Però Siamo in una bullet Ci sta Un'idea può essere questa Un'idea può essere questa Alfiere E6 Scusate Non vi ho detto che Ho fatto cavallo G In E2 Ma potevo prendere subito Con scacco Non l'ho vista L'ho vista adesso Donna per E5 Scacco Sposta al re Cavallo F4 L'alfiere è attaccato Due volte E la donna è attaccata Vedete Donna F6 Qua Ero talmente euforico Che non mi sono ricordato Di catturare l'alfiere Ma gli ho preso un pedone E sono contento Di non averlo visto Così l'ho fatto incazzare Ancora di più Donna per C7 Lui sviluppa il cavallo Torre H1 Minaccio matto Torre F7 Para al matto Contrattacca sulla donna Rimetto la donna Indietro in D6 No non rimetto Metto la donna in D6 Perché prima era in E5 Metto la donna in D6 Con la minaccia stavolta Di prendere davvero l'alfiere Torre D8 Lui non lo vede Bam Donna per E6 Prima di abbandonare O No Forse ha perso per tempo Sì C'è l'orologino qui Prima di abbandonare Bucoro Dalle Kaiman Mi ha scritto In chat Fuck your mum Io l'ho subito segnalato Nell'opzione di segnalare Gli utenti Non rispettosi Spero che Gli mandino la polizia A casa Non solo Ma che mandino anche La guardia di finanza Per portargli via Tutti i conti offshore Che lui gestisce Quindi No Non rispondiamo con insulti Perché se no Ci mettiamo a suo livello Ma comunque Bucoro Bucoro Ti aspetto Per Fartene Un'altra Da noi si dice In Lomellina Qui In questa profonda regione Della Lombardia Della bassa Lombardia Un posmon Farti un altro posmon Cioè darti un'altra mano Di botte Va bene signori Spero vi siano piaciuti Questi video esotici Giocate questa linea Se giocate in Londra E vi giocano L'impianto indiano Est indiano Giocate questa linea Che è Bam Bam State bene Statemi bene Commentate A presto Ciao